Una buona serata a tutti voi, cari amici e cari amiche di Angoli, come sempre ben ritrovati in questa prima parte del nostro appuntamento della sera. Saremo in compagnia del centro di formazione professionale Padri Somaschi per raccontarvi nel dettaglio quale sia la loro offerta formativa, ma soprattutto per ricordarvi i loro Open Days. Il primo proprio il 30 di novembre e quello successivo il 14 di dicembre. Ci dice tutto Mariella Petagini. Ciao Dori, siamo tornati al centro di formazione professionale Padri Somaschi di Como Albat in occasione del cinquantesimo anno di età della scuola per andare ad approfondire ancora una volta l'offerta formativa di questo istituto. Bentornati anzitutto. Sì, è un compleanno importante. 50 anni sul territorio vuol dire che siamo una realtà che effettivamente è molto radicata e sta crescendo. Abbiamo una realtà formativa dove sei settori che sono quelli rappresentati dal settore autoriparazioni, dal carrozziere, dall'elettricista, dal termoidraulico, dall'operatore macchine utensili e non da ultimo dal settore dell'edilizia hanno tracciato il solco in questi 50 anni, sviluppandosi, crescendo, alternandosi, soprattutto trovando un buon dialogo con le realtà che professionalizzano i ragazzi e gli danno uno spazio quando sono usciti da quella che è la nostra capacità di rendere a loro un modello formativo vincente, sia come persone, sia come professionisti di questi settori. E, cosa dire, questi settori sono fondamentalmente in crescita. Abbiamo un placement già al terzo anno che tocca quasi il 90%. Direi che potrebbe essere una idea iniziare a esplorarlo partendo da quelli che magari sono più inusuali come il segmento che tocca l'apprendistato, che è trasversale a tutti i settori e poi magari facendo un'incursione nell'operatore macchine utensili e nel settore edile. Buon viaggio! Eccoci all'interno di una delle aule con Alessandro, responsabile tutor dell'apprendistato per descrivere questa formazione professionale offerta dal CFP che è trasversale a tutti i vari settori. Sì, è corretto. È una modalità di formazione che prevede appunto della formazione in aula per le competenze di base e una formazione tecnico-professionale svolta direttamente presso le aziende che hanno assunto i ragazzi. Qui da noi la formazione si svolge nelle giornate di lunedì e di martedì e appunto ci sono ragazzi di diversi indirizzi, diversi settori e la formazione è proprio trasversale e permette di acquisire quelle competenze di base per poter sostenere poi un esame nel loro caso di qualifica che dovranno sostenere a giugno. Ecco, quindi in questo caso i ragazzi in aula fanno un lavoro di teoria che poi insomma applicano nel mondo del lavoro direttamente perché sono assunti da un'azienda. Esatto, sono assunti da un'azienda. Il loro percorso è iniziato nel mese di ottobre, qui sono stati assunti e saranno assunti fino al mese di giugno e appunto qui ci concentriamo su tutte quelle che sono le competenze trasversali, qui tutto quello che è italiano, inglese, matematica, insomma tutto quello che servirà loro per poter non solo sostenere l'esame finale ma anche comunque per poter affrontare l'esperienza lavorativa nel migliore dei modi. Quindi questo percorso ha una durata minima di sei mesi? Ha una durata minima di sei mesi, esatto. Il contratto deve avere una durata minima di sei mesi per poter essere ammessi all'esame. Abbiamo fatto irruzione all'interno di una lezione qui nel corso dell'apprendistato e siamo con Rocco e io sono molto curiosa di capire cosa fate nel quotidiano e nello specifico cosa stavate imparando oggi? Oggi stavamo finalizzando una lezione secondo me molto importante, una lezione che nella vita servirà dentro e fuori dal mondo lavorativo. Stiamo ripassando il curriculum. La prof ci ha fatto fare diverse lezioni, se non sbaglio questa è ormai la quinta, dove ci ha fatto imparare le cose essenziali che servono da mettere dentro un curriculum tutto diciamo le cose essenziali e non, cosa si deve mettere e cosa non si deve mettere. Perché è un po' insomma il biglietto da visita nei confronti dell'azienda che deve scegliere i candidati ideali. Esatto. Se dovessimo dare qualche consiglio magari a chi ci sta seguendo per comprendere meglio come strutturare il proprio curriculum, abbiamo detto dare delle nozioni chiare, realistiche di quello che si è insomma. Certo, certo. Io poi ognuno può mettere ciò che vuole, perché alla fine è il proprio biglietto da visita. Bisogna farsi notare con il curriculum, bisogna essere subito pronti a far capire che dovete scegliere me. Eccoci all'interno di una delle aule adibite al settore edile, che è un importante indirizzo qui al centro di formazione professionale, però appunto ci troviamo in un'aula e non sul cantiere prof. Sì, beh, questa è quella parte in più, quel plus che i nostri allievi riescono a ricevere da questa scuola, nel senso che non ci limitiamo soltanto alla parte pratica, che è importante, perché indubbiamente è praticamente l'istruzione del lavoro, è l'addestramento, ma c'è anche tutta una parte teorica dietro che riguarda la tecnologia, riguarda la gestione del cantiere, riguarda la sicurezza, che diventa fondamentale ed è quella differenza che c'è tra una persona, tra un allievo che fa questo tipo di corso e una persona invece che si butta subito sul mondo del lavoro per quanto riguarda le edilizie. Altra cosa importante è che noi non possiamo pensare che i nostri allievi siano dei semplici operatori. Oggi quello che serve sul mercato sono soprattutto dei tecnici e anche tecnici edivi. Questo ci permette di avere una formazione teorica che poi loro si porteranno per tutta la vita, perché poi questo è anche una forma mentis per poi iniziare a diventare più tecnici, più propensi a capire come funziona un cantiere edile, ma soprattutto l'obbligatorietà di aggiornarsi. Certo, è imprescindibile ad oggi comunque per un ragazzo che approccia il mondo del lavoro, seppur manuale, avere determinate competenze, skills, insomma. Certo, anche perché i materiali continuano a cambiare, cambiano le tecniche costruttive, basti pensare soltanto all'adeguamento dei fabbricati per quanto riguarda la classe A, quindi contenimento energetico, il recupero edilizio per quanto riguarda i fabbricati già gestenti, tutta la parte di ristrutturazione e recupero anche storico. Non si può sempre costruire da nuovo, quindi qualcosa noi dobbiamo recuperare e questo fa parte del loro bagaglio culturale e soprattutto le famose skill tecniche teoriche che loro devono avere per poter fare questo tipo di mestiere. Dopo aver dialogato con il prof che ci ha dato un po' degli insegnamenti, delle nozioni teoriche su quello che è il settore edile, parliamo con Pietro che è uno degli studenti del CFP per andare poi sul lato pratico di questo settore, immaginarci un po' sul cantiere e capire come funziona soprattutto il tema della sicurezza. Allora sì, sulla sicurezza mi sono sempre sentito molto sicuro. Come DP qui a scuola noi usiamo quasi sempre i guanti, le scarpe e il caschetto se dobbiamo lavorare o in quota o sotto dei ponteggi dove c'è magari il rischio che cada qualcosa dall'alto. Quindi ci sono delle precauzioni assolutamente indispensabili, no? Sì, sì, no, obbligatorie. Pietro, nei momenti in cui dovete affrontare una nuova attività sul cantiere vi è una precisa analisi dei rischi che è molto importante? Sì, prima di svolgere il lavoro facciamo sempre un'analisi dei DP che possono servire, come ad esempio anche gli occhiali. Insomma, questo tipo di istruzione vi aiuterà a essere pronti sul mondo del lavoro? Sì, diciamo, saremo più preparati a confronto di altra gente che va in cantiere senza avere prima avuto un'istruzione rispetto a noi che andiamo dopo aver avuto un'istruzione. Entriamo nel vivo di quello che è un settore importante, quello meccanico per macchine e utensili con la nostra prof. Anche in questo caso vi è una perfetta commissione tra il mondo teorico e poi il risvolto pratico. Esatto, il settore metalmeccanico è un settore molto meno radicato nel territorio. Noi cerchiamo di preparare i ragazzi per affrontare le sfide lavorative. Cerchiamo appunto di dare una preparazione a 360 gradi, appunto cerchiamo di sviluppare dei prodotti iniziando con delle nozioni teoriche e quindi anche poi applicative. Partiamo con i primi anni, diciamo, con appunto le prime conoscenze, con il disegno fatto con dei software 3D per poi passare a dei software 3D. I ragazzi poi vengono appunto accompagnati nella crescita, facendoli lavorare con delle macchine e utensili tradizionali per poi fare della programmazione e poi anche della modellazione 3D. Appunto partiamo con la progettazione, facciamo un ciclo completo, la progettazione, la prototipazione con le stampanti 3D utilizzando appunto software 3D e poi le realizziamo con le macchine a controllo numerico. Ed eccomi con due studentesse del settore meccanico macchine e utensili per ribadire quanto sia importante questo indirizzo nell'ottica futura di inserimento nel mondo del lavoro. Perché Greta c'è tanta richiesta di questa vostra figura. Io sono al terzo anno e mi piacerebbe molto fare il quarto anno a prendistato perché è nella ditta dove ho praticato stagio l'anno scorso. Il mio settore in particolare mi dà tantissimi sbocchi lavorativi, ad esempio nella mia ditta in cui potrei fare montaggio meccanico, controllo qualità o, come sto studiando adesso, progettazione meccanica. Quindi il tuo scopo è quello di entrare il prima possibile nel mondo del lavoro? Sì. Ho tanta scelta e sono molto contenta di questo perché vuol dire che io avrò sempre una seconda opportunità, ovunque io sia, qualunque cosa io faccia e sono molto ansiosa di iniziare. Di iniziare il prima possibile. Sofì, invece per te vale lo stesso, insomma, hai questo desiderio di entrare subito nel mondo del lavoro oppure no? No, io sto frequentando anche il terzo anno e poi continuerò con la quarta e il quinto anno, così da uscire con un diploma tecnico e l'idea è quella di andare a frequentare poi un'università di ingegneria meccanica. Però ho preferito frequentare prima un istituto professionale, così che imparassi dalla base. Anche perché in questo caso è possibile sia apprendere delle nozioni teoriche e poi avere il risvolto pratico. Esatto. Insomma, ragazze, se qualcuno da casa volesse approfondire la conoscenza di questa scuola, c'è un appuntamento che possiamo dare? Vi aspettiamo all'open day. Grazie. Infatti ricordiamo le date del 30 novembre e il 14 dicembre per venire a conoscere con mano la realtà del CFP, Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi di Como Albate. È possibile iscrivervi sul sito della scuola. Dori, ti ripasso la linea. Ed ora una brevissima pausa e subito dopo saremo in compagnia del professor Giuseppe Perone. Grazie.